Quando c'è un problema alle anche o alle ginocchia, raccogliere un oggetto caduto per terra può diventare impossibile, il paziente non riesce a farlo, ha bisogno o di un supporto tecnico che lo aiuti oppure deve chiedere a qualcuno di farlo. Quindi tutta la vita del paziente sul piano della funzionalità di ogni momento della vita, dal lavarsi la faccia o a lavarsi le parti intime per esempio, può diventare praticamente impossibile senza l'aiuto di un badante esterno. E' una malattia che predilige gli uomini o le donne? E' una malattia di genere, è una malattia che colpisce prevalentemente le donne con un rapporto almeno di 6 donne ogni 10 pazienti, quindi molto più frequente nelle donne, probabilmente perché le donne hanno proprio per natura un sistema immunitario un po' più lasco, che consente l'emergenza di fenomeni autoimmuni, cosa che nel maschio accade con più difficoltà. Questa cosa tradizionalmente viene attribuita al fatto che la donna deve accogliere un essere esterno e quindi non deve avere un sistema immunitario troppo rigido perché sennò finirebbe per respingerlo. Diciamo, è una visione un po' teleologica della cosa, però ha il suo senso, nelle donne in effetti c'è questa maggior tendenza alle anomalie della risposta immune che in soggetti predisposti può portare ad una malattia proprio... Le mani con quelle articolazioni infiammate, dolenti, sono idonee alla guida di auto? Possono essere idonee alla guida anche se, dipende dal grado di impegno, ecco, se le articolazioni delle mani sono completamente distrutte non possono guidare perché non riescono più a gestire proprio le piccole articolazioni delle dita. Se invece l'impegno è parziale, loro possono guidare, ma hanno bisogno di guidare degli automezzi modificati che abbiano un acceleratore al volante, che abbiano il servofreno col cambio automatico, c'è una serie di prescrizioni che devono essere rispettate per concedere la patente a pazienti che abbiano una malattia in stato avanzato. Negli stati iniziali, una volta trattato e eliminato il dolore e infiammazioni, i pazienti possono guidare anche un'auto normale. E l'idoneità al lavoro anche sotto il profilo dell'infortunio sul lavoro? L'idoneità al lavoro è fortemente compromessa, devo dire. Io ricordo di aver ascoltato la narrazione della sua malattia di una paziente, era un'impiegata delle poste, che diceva che lei al mattino si alzava e fra mille difficoltà si sistemava per la giornata, prendeva la sua pillola di cortisone che gli dava 3-4 ore di tranquillità. Allora lei quando arrivava nell'ufficio predisponeva sulla scrivania tutti gli oggetti, la penna, le pratiche, la matita, il tagliacarte, tutti in un raggio che era raggiungibile col solo movimento dell'avambraccio, perché sapeva che una volta terminato l'effetto del cortisone non si sarebbe mai potuta più alzare per prendere un oggetto più distante. Questo significa che le modalità comportamentali di questi pazienti sono profondamente modificate e l'attitudine al lavoro in questa donna che voleva lavorare, diciamo, erano mantenute a costo di questo sforzo organizzativo, ma spesso sono compromesse gravemente e, diciamo, dopo dieci anni di malattia quasi l'80% dei pazienti non curati finisce per lasciare il lavoro, non ce la fanno a sostenere l'impegno, magari banale, anche semplicemente di andare a lavorare. Può essere un impegno, cioè salire su un autobus in una persona con un'artrite d'anca non è possibile. L'esercizio fisico lo consigliate ed è possibile oppure no? Noi un esercizio fisico lo consigliamo purché sia fatto su un terreno, diciamo, non irregolare, quindi niente footing sulla sabbia, niente passeggiate nei campi, ma passeggiate tranquille in città e come attività sportiva in genere noi consigliamo il nuoto, che è un'attività che con l'effetto antigravitario dell'acqua consente di fare un buon movimento senza sollecitare troppo le articolazioni che supportano il peso del corpo. Quindi niente corsa, niente calcio, niente tennis, questo purtroppo quando c'è un impegno infiammatorio non si può concedere. Ci sono implicazioni di rapporto sessuale? Non dirette, ma indirette sì. Gli organi sessuali e la capacità di riprodurre per sé non sono compromesse dalla malattia, ma come non pensare a quanto può essere doloroso un rapporto sessuale in una donna che abbia un'artrite delle anche e che quindi non può muovere le anche o le ginocchia. O ha dei dolori nel momento in cui c'è il rapporto di dolori alle braccia, non può neanche abbracciare i propri cari, quindi anche in questo l'attività sessuale quando c'è un fenomeno di riacutizzazione della malattia può essere vista come un momento di ulteriore dolore e quindi essere evitata anche in presenza di una normale attitudine sul piano puramente ormonale. La maternità è controindicata? Non è controindicata, la maternità è possibile, certo anche qui in una donna che non abbia un gravissimo impegno articolare si può concedere la gravidanza. Gli ormoni della gravidanza sono protettivi, quindi l'artrite durante i nove mesi della gravidanza tende a ridursi come intensità, lascia un po' tranquilla la paziente, però una volta partorita, una volta avvenuto il parto, quando cadono gli ormoni la malattia ricomincia inesorabile e questo può comportare per esempio l'impossibilità di allattare perché alcuni farmaci passano nel latte e quindi possono determinare problemi al bimbo e alcuni farmaci non si possono prendere durante la gravidanza. Uno per tutti, il metotrexate che è un farmaco che si usa moltissimo nel trattamento delle artriti, è un farmaco si dice teratogeno, cioè che può determinare delle malformazioni fetali. Quindi quando la paziente decide di intraprendere una gravidanza deve avvisare il suo medico in maniera che sospenda per tempo la terapia e dopo un periodo di wash out, di eliminazione del farmaco, può avere la sua gravidanza in maniera normale prendendo soltanto il cortisone e l'aspirina nei primi sei mesi perché poi nel secondo trimestre anche l'aspirina può essere pericolosa. L'alimentazione può essere un fattore di progressione della malattia? L'alimentazione no, ci sono dei dati che però sono rimasti a livello di curiosità ed intera. Gli eschimesi non hanno un artrite reumatoide sostanzialmente e questo si è attribuito al fatto, alla loro dieta prevalentemente fatta di pesce e all'uso dell'olio di pesce che avrebbe un effetto antinfiammatorio. Quindi un'alimentazione di questo tipo potrebbe, come dire, ridurre l'attività dell'artrite reumatoide. Nei fatti però un'alimentazione di solo pesce oppure l'uso di olio di pesce a scopo terapeutico si è rivelato fallimentare. Quindi ci sono delle suggestioni in questo senso, ma una prova che la dieta possa influire in maniera seria e provata nel decorso di questa malattia non ce l'abbiamo. Ma gli eschimesi non può avere influenza il freddo, per esempio? No, è un fatto proprio... è stato attribuito alle abitudini alimentari, ma non alla temperatura. Può essere forse più attribuito al fatto etnico, al fattore etnico, cioè una predisposizione a una non predisposizione di popolo. Ecco, proposito di freddo o caldo, il caldo fa bene o fa male? È il freddo. Il caldo. Il caldo fa malissimo quando il caldo è quello del bagno di sole, quando si va sulla spiaggia e si rimane ad arrostire tutto il giorno per l'abbronzatura. In quelle situazioni l'aumento di temperature delle articolazioni provoca un aumento dell'afflusso di sangue, un aumento dei fenomeni infiammatori. Questo significa che dopo un bagno di sole lungo, con le temperature pugliesi, il paziente può avere necessità di ricoverarsi addirittura o comunque di aumentare il dosaggio dei farmaci perché può avere una reacutilizzazione anche violenta. Quindi non al sole? Tutte le applicazioni di calore sono pericolose. Quindi i bagni di faraffina, i fanghi, i bagni termali, i bagni di sole sono pericolosi nell'artrite reumatoide ma sono curativi nell'artrosi. Per questo è ancora più importante distinguerli, distinguere le due malattie. Terapia. Come si cura? Ne parliamo subito dopo la pubblicità.